Ospite della nostra rubrica questa sera è Tiziano Maffezzini, 53 anni di Chiuro, al terzo mandato come sindaco del suo paese e al terzo mandato come presidente della comunità montana. Valtellina Di Sondrio, oltre che delegato regionale di UNCEM. Cos'è l'UNCEM? L'UNCEM è l'Unione Nazionale dei Comuni, Comunità e Enti Montani, è un ente che rappresenta a livello nazionale tutti quegli enti che si trovano appunto in montagna. È un'istituzione nata per difendere quelle che sono le prerogative di quei territori, che sono territori difficili, che richiedono attenzione, che richiedono anche politiche specifiche. E l'impegno delle delegazioni UNCEM regionali è proprio quello, essere portavoce degli interessi dei comuni più isolati, quelli che si trovano alla quota maggiore, che hanno maggiori difficoltà nella quotidianità. Nell'ambito della comunità montana Valtellina Di Sondrio, quali sono i comuni un pochino più fragili? Comuni fragili, nel vero senso della parola, non esistono, perché per fortuna la nostra valle, non solo la comunità montana di Sondrio, ma un po' tutta la nostra provincia, è un territorio che ha comunque una solida base, sia dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico. L'agricoltura è comunque, nonostante le difficoltà, un punto di riferimento, per cui i territori veramente fragili non esistono. C'è bisogno però di politiche collettive che possano aiutare chi fa imprese in montagna, che spesse volte ha a che fare naturalmente col problema delle distanze, con i problemi legati anche alla tecnologia digitale, per cui una delle politiche più importanti che UNCEM sta cercando di portare avanti è quella della fiscalità differenziata. Noi chiediamo da tempo che chi fa imprese in montagna possa essere agevolato proprio per quelle difficoltà intrinseche che trova sul proprio territorio. E invece l'importanza della comunità montana dentro un territorio di questo tipo, qual è? Fa da collante forse rispetto a tutti i comuni? Sì, il valore della comunità montana, delle comunità montane in genere sono 23 in regione Lombardia, sta proprio in questo, quella capacità di fare sintesi dei territori, di essere capace di raccogliere le istanze di tutti, mettere a fattore comune ciò che è più importante, ciò che è più necessario per lo sviluppo dei territori e quindi essere un po' il luogo d'incontro, il punto di riferimento e attraverso la comunità montana riuscire a raggiungere gli enti maggiori, la regione Lombardia è il primo luogo, ma anche lo Stato. Quindi è un ente che ha ancora ragione di esistere? Io credo di sì, anche perché in questa fase nella quale le province non hanno ancora un'identità precisa, non hanno un organo politico forte, non rappresentano più quel luogo identitario, quel luogo dove gli aspetti di tutta la provincia potevano trovare risposta, oggi le comunità montane riescono a sopperire a questa carenza. Ma come vi finanziate? Le comunità montane hanno come base finanziaria i fondi legati al demanio idrico, una quota poi da parte di regione Lombardia, mentre invece la restante parte delle risorse sono contributi che si cerca di ricevere, attingendo i vari bandi che gli enti mettono a disposizione. Su quali filoni si indirizza di più l'attività della comunità montana di Sondra? Ci stiamo così adoperando su diversi settori, abbiamo seguito molto il settore turistico, abbiamo realizzato delle piste ciclopedonali, penso ultimamente al sentiero Rusca che è una delle spine dorsali più importanti della ciclabilità del nostro territorio, però ci occupiamo di agricoltura, stiamo realizzando un progetto legato all'agricoltura biologica, al suo sviluppo e poi anche in campo culturale. L'ultimo progetto nel quale stiamo portando avanti la realizzazione, finanziato sui fondi emblematici maggiori dei fondazioni Acari per la regione Lombardia, le radici di un'identità, un progetto che coinvolge tutto il territorio, vuole essere promotore dall'identità dei nostri territori, affinché le nostre radici e la nostra storia tornino nella quotidianità di chi abita il territorio. Buon lavoro allora Tiziano Mafezzini come Presidente della CM, come Sindaco e come Delegato regionale UNCEM. Grazie mille. Grazie.